Sono in corso anche a Molise le elezioni comunali 2016 del 5 giugno e 33 il numero dei comuni della regione in cui si va alle urne. Si vota dalle 7 alle 23 subito dopo iniziare allo scrutinio, fareccesi sui Sernia dove sono in gare 9 per la carica di sindaco ed è stato quasi sforato il tetto dei 700 candidati, eserciti o meglio fazioni figlie di spaccature in seno ai partiti tradizionali. L'attenzione è puntata anche su Boiano e Agnone. Nella capitale del Zagno sono i 5 a contendersi la fascia tricolore mentre nella città delle campane la sfida si gioca a 3. Uno solo è il comune molisano con popolazione legale superiore ai 15.000 abitanti e per il quale viene applicato il sistema elettorale maggioritario a doppio turno. In sintesi i numeri delle elezioni nella regione sono i seguenti. Comuni al voto 33 su 136, ovvero il 24,3%. Comuni con popolazione minore ai 15.000 abitanti 32 su 33, ovvero il 97%. Capologhi di provincia 1. L'affluenza alle urne rilevata dal Ministero dell'Interno alle ore 12 è del 20,26%. In Molise al momento si è recato alle urne il 19,06% degli aventi diritto. Maggiore affluenza in provincia di Sernia con il 19,38%, mentre in provincia di Campobasso la percentuale è stata del 18,86%. Maggiore affluenza in provincia di Sernia con la regione di Sernia con la regione di Sernia con la regione di Sernia con la regione.